Noi stiamo portando una soluzione, se il cliente non gli interessa, tantomeno ci interessa a noi che stiamo qui dentro, noi in casa ci stiamo e ci rimaniamo, quindi l'interesse è vostro, non è il nostro, noi eravamo qui, fra 5 minuti siamo anche i 300, un'altra cosa che è, stanno arrivando 50 persone, abbiamo dimmiato l'aspetto a casa e stanno venendo qui, sentimi forte perché c'è due divise dietro, pensi che ci spaventiamo di questo noi, pensi che sia questa, facci paura, forse te non hai capito con chi ha che fare, capito? Quindi se vuoi ragionare con noi, vieni a questo tavolo l'incontro che ti abbiamo richiesto, altrimenti la prossima volta ti continui a chiamare camionette, perché di lì non c'è nessuno, non ti dio più niente. Eseguiamo questo sfratto ufficiale giudiziario? Eseguiamolo, va bene? Io vorrei entrare, tu sei la parte, vorrei entrare, non mi spingete! E' lei che spinge! E' lei che spinge! Il corso attivo con i servizi sociali è una cosa che a Pisa non si è mai vista, non si è mai vista e lo sanno tutti qua. Qua un proprietario potenza e pieno di soldi ha unto gli ingranaggi per permettere tutto questo ed è una vergogna e noi oggi di qua non ci spostiamo, la famiglia resta in casa e la casa si difende, via, aria, tutti fuori! Basta sfratti! 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 Ma se non l'avete capito, in questa città non ti fanno più gli sfratti, avete capito? In questa città non te ne fanno più gli sfratti! Basta sfratti! Basta sfratti! Basta sfratti! Basta sfratti! Vergogna! 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 Dicate! Dove le nostre case! Non ci scoperate! Viacce si è domicilio! Orricate! Vergogna! 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 Guardiamo sprezzate! Non ci scoperate! 10, 100, 1! Viacce si è domicilio! Vergogna! 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 Vogliamo le tue case! Vogliamo il tuo denario! Vergogna! 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 Vergogna!